Momenti di tensione sabato scorso al supermercato Eurospin di Fano, dove un nigeriano senza mascherina ha iniziato volutamente a tossire contro i clienti e dal personale dipendente. Allertata la polizia di Fano, gli agenti hanno rintracciato il giovane di 26 anni, poco distante al terminal degli autobus della stazione ferroviaria. Lo straniero, che era in evidente stato di alterazione alcolica, ha mostrato sin da subito un comportamento aggressivo, prima in vendo e poi aggredendo i poliziotti con calci e pugni. Gli agenti però sono riusciti a schivare i colpi ed ad immobilizzare il 26enne. Il ragazzo, senza fissa dimora, è stato arrestato per i reati di violenza, minaccia e resistenza pubblico ufficiale, ma anche per false dichiarazioni sulla propria identità. Sottoposto a tampone molecolare per Covid-19, il giovane è risultato negativo al virus e dunque i clienti e i dipendenti del supermercato, timorosi del possibile contagio, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Questa mattina poi, al Tribunale di Pesaro, si è tenuta l'udienza che si è conclusa con la convalida dell'arresto e con la condanna del nigeriano a un anno e dieci mesi di reclusione con pena sospesa. Inoltre è stata autorizzata la sua espulsione dal territorio nazionale. Durante il fine settimana invece gli agenti del commissariato di Fano, diretti dal dirigente Stefano Seretti, hanno svolto anche numerosi controlli sul rispetto delle norme anti-Covid. La vigilanza nel centro storico e sul lungomare è stata continua. Sono state richieste infatti le autocertificazioni, sono stati controllati tre locali e identificate 13 persone, ma non è stata riscontrata nessuna violazione. A Sant'Orso invece si è verificato un assembramento e i poliziotti hanno riaffidato due minorenni ai rispettivi genitori. Pressante è stata pure l'opera di sensibilizzazione al rispetto del distanziamento e all'utilizzo delle mascherine di protezione.